Perché leggere Orazio? Beh, Orazio è uno dei miei autori preferiti, forse il mio autore preferito della letteratura latina e quindi sicuramente va letto perché è bellissimo. In realtà vorrei partire da una sua dichiarazione che è contenuta nell'Ars Poetica, cioè in questa sua epistola, un componimento in realtà in cui tratta della sua poetica e dice che il suo fine è miscere utile, dulci, ossia mescolare insieme all'utile il piacere. Quindi la poesia di Orazio vuole essere insieme utile al lettore e piacevole da leggere ed è un autore che riesce splendidamente a unire questi due intenti. Tralasciando adesso la divisione nelle sue varie opere che hanno delle caratteristiche specifiche, vorrei fare una panoramica generale su come riesca a ottenere questi due obiettivi soffermandoci su alcuni aspetti. Inizierei dal dulci, cioè dal piacere. Come mai le poesie di Orazio sono così belle da leggere? Beh, in realtà una parentesi che vorrei premettere è che sono così belle anche perché ci dicono qualcosa, perché non sono semplicemente delle opere d'arte lezziose fine a se stessi, ma la loro bellezza sta proprio nell'unione strettissima tra forma e contenuto che insieme generano un'opera d'arte. Ma se ci dobbiamo fermare sull'aspetto formale, appunto sulla bellezza, dobbiamo considerare che per Orazio esistevano due componenti per il poeta. Da una parte c'era l'ispirazione e dall'altra un intensissimo lavoro, un laborlima insomma, una capacità del poeta di lavorare, lavorare, rifinire fino a trovare una forma perfetta. In effetti le sue opere sono degli orologi che funzionano in maniera straordinaria e c'è una grandissima cura nella scelta dei singoli vocaboli. Lui da una parte quindi si presenta come Vates, poeta che ha una connessione diretta con gli dèi che gli danno una sorta di ispirazione, quindi ha un rapporto privilegiato alla divinità, questa è un'idea che proviene da Omero, da tutta la tradizione precedente, insomma la musa canta al poeta o addirittura usa il poeta come suo tramite e anche qui Orazio, lui nelle sue opere sostiene di essere, di avere un'ispirazione particolare, che però non è sufficiente, ma è sufficiente forse da alcuni. Qui c'è la famosissima, famosissima paragone tra lui e Pindaro. Pindaro, grandissimo poeta greco, che è rimasto nella lingua comune come nelle espressioni voli pindarici. Cos'è un volo pindarico? Un volo pindarico si ha quando qualcuno comincia a parlare e si sbrodola parlando di tutt'altro. Questo perché Pindaro nelle sue odi aveva questa capacità, in realtà artistica nel suo caso, di affrontare delle grandi digressioni. Quindi era un poeta fortemente ispirato, o almeno che così amava apparire, e per Orazio lui è come un cigno, un cigno tebano, perché Pindaro è di Tebe, un cigno tebano che si alza alto in volo, ecco questo è Pindaro. Mentre Orazio, pur avendo un'ispirazione poetica, si paragona a un'ape, l'ape di Matino. Matino è una zona montagnosa della Puglia, lui sapete era di Venosa tra la Basilicata e la Puglia, quindi delle sue parti. E cosa fanno le api? Le api vanno di fiore in fiore e producono il miele dolcissimo con un lunghissimo lavoro. E' proprio questo che deve fare il poeta, secondo Orazio, o meglio, quando deve fare lui come poeta. Cioè, raccoglie, lavorare intensamente, rifinire, e solo così potrà creare un capolavoro, il miele appunto, che è la sua poesia. La sua poesia è una... non è solenne, raramente utilizza, diciamo, un registro esistico altissimo, ovviamente non si abbassa nemmeno troppo. Ha uno stile medio, una parte... quelle che noi chiamiamo satire e epistole, lui chiamava sermones, cioè hanno un lessico quotidiano, ma apparentemente, perché in realtà, anche se non utilizza termini, figure retoriche, diciamo, figure retoriche troppo elaborate o termini aulici, in realtà la sua poesia, scusate, è misuratissima. In particolare, lui utilizza una tecnica che si chiama... che lui chiama calida yuntura, che vuol dire, sostanzialmente, l'unione, i due parole, che sono di per sé sarebbero anche abbastanza comuni, ma sono unite in maniera inaudita, in maniera, cioè, del tutto originale. E questa originalità provoca, da una parte, un momento di stragnamento nel lettore, e dall'altra riflessione, perché se noi nella poesia troviamo qualcosa che... o in un testo in generale, comunque, nella poesia in cui troviamo qualcosa che non è quello che ci aspettiamo, ci soffermiamo un attimo a riflettere. Un esempio molto famoso è il concetto di aurea mediocritas, che poi ci rimanda all'aspetto filosofico. Aurea mediocritas, la mediocrità aurea. Mediocritas di per sé vuol dire non qualcosa di eccesso, ma appunto di medi, una medietà, che però diventa aurea, cioè, dorata, meravigliosa. Cioè, quello che ci sta dicendo, Orazio, insomma, è che anche la medietà, in italiano mediocrità ha una connotazione negativa che in latino non ha, comunque anche la medietà può essere aurea, cioè, affascinante. È quasi un ossimoro, perché medietà rimanda a una via di mezzo, aureo, invece, rimanda a qualcosa di eccesso. E questo è un esempio di calida aiuntura che veicola un significato. E così arriviamo all'utile. Noi potremmo vedere anche un po' Orazio come un maestro di vita, anche se lui non apprezzerebbe forse molto questa definizione, perché il suo atteggiamento nelle poesie non è tanto di maestro che ci insegna, quanto piuttosto di una persona che sta insieme a noi, insieme a noi lettori, cercando di arrivare alla sapienza. Quindi il suo è un percorso, non si presenta come qualcuno di arrivato alla saggezza, ma invece come qualcuno che la sta cercando. E in questa ricerca ha un maestro, che è Epicuro. In realtà lui non segue in maniera rigorosa le teorie di Epicuro, un po' le varia, un po' non si sente all'altezza. Lui si definisce Epicuri Grege Porcus, cioè il maiale del Grege di Epicuro, nel senso che sicuramente, a parte il fatto che era un po' grasso, e quindi anche questo richiamò il maiale. Ma al di là di questo c'è il fatto che non pensa lui di avere l'altezza morale, filosofica del maestro, ma comunque di avere questa ricerca di piaceri, questa ricerca filosofica affine al maestro. Tra l'altro lui sappiamo dal punto di vista biografico che ricercava piaceri anche piuttosto estremi, insomma, oltre all'amore per il cibo, anche l'amore, insomma, come sesso era fortemente ricercato da Orazio, che pur non avendo relazioni stabili aveva diversi rapporti con prostitute o donne di facili costumi, insomma. Comunque, il suo, la sua orizzonte è quello Epicureo. I due capisaldi che prende da Epicuro e che sono presenti come sottofondo nelle sue opere sono i concetti di Metriotes e di Autarcheia. Cominciamo dalla Metriotes, che ci rimanda all'Aurea Mediocritas. Metriotes vuol dire il giusto mezzo. In realtà questo, oltre che essere un concetto Epicureo, è un concetto che arriva da Aristotele. L'idea, insomma, è che la virtù sia nel non eccedere né da una parte né dall'altra. E noi porterà, porta molti esempi di questo. Uno famoso è la ricchezza. Per esempio, dice, ma perché la gente deve discutere se sia meglio essere poveri o essere ricchi? Chi è povero sta male, è evidente. D'altra parte, molto spesso vediamo che i ricchi sono presi all'ansia di accumulare, quindi l'eccesso di ricchezza è totalmente inutile. Ma questo non vuol dire che dobbiamo vagheggiare la povertà. Dobbiamo avere una via di mezzo, avere, come dice, una situazione di benessere materiale medio, senza voler arricchirci chissà quanto, senza per questo sprofondare nella povertà. La virtù, insomma, sta nel mezzo. Un'idea che è tipica della filosofia classica, almeno per molti aspetti, e che viene poi anche ripresa da autori successivi. L'altro concetto è quello di autarcheia, che si dice così con parola greca perché autarchia è stata, cioè la traduzione italiana è stata connotata politicamente dal fascismo in maniera negativa. L'autarchia per il fascismo era consumare solo ciò che veniva prodotto in Italia. Invece, ovviamente connesso all'autarcheia, che è il concetto di bastare a se stessi, cioè l'idea di avere un tale equilibrio per cui la nostra felicità debba dipendere solo da noi stessi e non dagli altri. Quindi non c'è un'idea materiale, è ovvio che una società si debba in qualche modo entrare in relazione con gli altri, dipendere per alcuni aspetti materiali dagli altri, però se noi abbiamo pochi desideri, quindi non abbiamo sfrenati desideri di gloria, di ricchezza, eccetera, in realtà possiamo condurre una vita sostanzialmente indipendente. Quindi dobbiamo avere una capacità morale di bastare a noi stessi, una capacità di ridurre i nostri desideri, questo era uno dei principi anche di Epicuro, perché in questo modo, non dipendendo dagli altri a ciò che ci sta intorno, potremmo raggiungere la serenità. E questo è quello che ci raccomanda Orazio. In generale, lo vedremo poi nei testi, la sua idea, ed è più interessante dal nostro punto di vista, è quella di indirizzarci verso una calma serenità e un godimento pacato di ciò che la vita di buono ci può offrire. Questi sono i componimenti più importanti, quelli che andremo a leggere. In realtà lui scrisse anche dei componimenti civili di propaganda politica, ma a noi oggi dicono forse meno di quanto dicono i componimenti morali.